A sala di Cesenatico Vessenna la sesta giornata in campionato in prima categoria a Gironei. Il rosso-blu di casa, debutto davanti alle nostre telecamere, arrivano dalla sconfitta di misura in esterna sul campo del Morciano. Invece ero un conflitto dalla sconfitta interna rimediata col capolista Stella, tra l'altro prossimo avversario qui al comunale del Sala. Arbita la gara Davide Alcangiari della sezione di Rimini. Con l'immagine ancora di Giacomo Alpini passiamo al resoconto del match con il Sala che inizia il suo forcing offensivo con il protagonista Savadori. Bravo a resistere la carica dall'avversario un po' meno in fatto di precisione finale. Dalla bandierina svetterano di testa due giocatori del Sala, una carambola favorisce lo stacco finale di Milzoni con la sfera che termina alta. Il Roncofreddo replica con una serpentina sulla sinistra, attraversione di Bigliadori non raccolto dai compagni. Savadori a questo punto ci prova dall'altra parte poco dopo dalla distanza ma la mira ancora una volta da registrare. Il Roncofreddo invece va a bersaglio, questa volta con Bigliadori che dalla stessa mattonella precedente mette al centro il pallone raccolto da Foschi che in girata non lascia scampa a Urbini portando il Roncofreddo in vantaggio. Lo scambio di cortesia da parte del Goliadori viene fornito qualche minuto dopo. L'azione parte questa volta da Marconi. Foschi risponde presente servendo a Bigliadori il pallone del raddoppio ma il numero 10 calcia alto. Il Sala invece si fa vedere con Evangelisti che segue la sfera alla stoppa preparando la conclusione che si spegne fuori di un nulla. Ma l'estremo ospite Alias Oreste si supera volando a prendere un pallone che Milzoni di testa aveva ben angolato. Da punizione i rosso-bruci provano ancora con Zoffoli. La sfera si accomoda sul fondo. Dall'altra parte questa volta superarsi a Urbini. La Sani termina a terra in area di rigore. Bigliadori recupera la sfera scaricando direttamente in porti il pallone del 2-0. Urbini risponde con una parata super. Milzoni e Salvadori giocano a memoria. Lo scambio porta il numero 10 a scodelare questo pallone sulla testa di Milzoni che non inquadra lo specchio della porta. Dall'angolo Maroni c'entra il palo con una deviazione di piatto. Porta a questo punto stregata per il rosso-bru di casa. All'ultimo secondo di prima frazione da gioco l'arbitro fischia un fuorigioco a Marconi che manda su tutte le furie la formazione ospite. Squadra riposo solo 0-1. Nella ripresa Roncofreddo prova a chiuderla e ci prova con Bigliadori in due occasioni. Ma Oreste in tuffo nega la gioia del gol a numero 10. Il duello si ripete con lo stesso epilogo. Il 2-0 è solo rimandato. Marconi sulla destra questa volta porta avanti il pallone che scarica con violenza le spalle dell'incolpevole Oreste per lo 0-2 ospite. La reazione del Sala porta al tiro di Milzoni con la sfera che termina fuori. È la volta di Foschi, pallone che si spegne di poco alto. Dall'angolo spizzica il pallone in neontratto Carelli. Urbini blocca senza fanni. Lo stesso Carelli scambia con Ferre Michael, entrambi entrati nel corso della ripresa. Recrimine proprio per il numero 19 per un fallo di mano da parte dell'avversario. L'arbitro indica semplicemente un corner. Proprio dall'angolo nasce il gol del Sala firmato dallo stesso numero 19 Ferre Michael. Le speranze del Sala però si chiudono nell'extra time con la conclusione di Orlando fuori misura. Termina qui una partita ricca di azioni da rete divertente con squadre che hanno giocato a viso aperto. Per il Sala domenica prossimo arriva al comunale la capolista Stella. Il Roncofreddo è atteso dall'esame con il San Lorenzo.